Don Serafino, questa sera per il corso biblico una lezione magistrale del nostro Arcivescovo. Il tema? Il tema è sul Vangelo di Marco. Sceglierà un brano dal Vangelo di Marco per fare un'analisi diciamo all'interno del contesto del Vangelo di Marco e poi per dare delle applicazioni pratiche. In questo modo possiamo presentarlo, immaginarlo come un coronamento della parte della scuola biblica che non è soltanto incontro accademico, non è mai incontro accademico, però è studio serio della parola di Dio, approfondimento di alcuni temi attraverso alcuni testi e questa sera proprio con il risvolto, alla ricaduta pratica di alcuni testi di Marco per la vita proposti da Monsignor Pansetta ci sarà, dicevo proprio, la chiusura di questo primo percorso, un coronamento di quanto è stato fatto fino adesso. E poi si rilancerà la seconda parte che è quella dello studio, cominceremo lo studio sempre introduttivo del Vangelo di Matteo. Quest'anno sarà dedicato la prima parte a Marco e si chiude appunto con la lezione magistrale di questa sera e la seconda parte all'introduzione al Vangelo secondo Matteo. Le lezioni stanno andando avanti, gli incontri stanno andando avanti e c'è attenzione proprio su quello che viene detto nel corso di questi incontri. Sì, perché intanto c'è grande sete di sapere, di approfondire le ragioni e le radici della propria fede e poi c'è grande attesa per conoscere qual è il pensiero di Dio affidato alle pagine della Sacra Scrittura e col quale pensiero noi siamo chiamati a confrontarci perché, e dobbiamo confrontarci criticamente perché questo pensiero ha la pretesa di orientare la nostra vita, per cui con ciò che pretende di orientare la vita allora io mi attrezzo, cerco di comprenderlo e poi anche di praticarlo.